Sindaci, mamme ed esponenti politici sono tornati a chiedere alla Regione di risolvere il problema della carenza di pediatri nel distretto sanitario di Scafa, dove operano dallo scorso mese di novembre due medici per circa 3.000 bambini. A Pescara una delegazione ha incontrato prima il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e poi l'assessore alla sanità Nicoletta Verì ed ha ricevuto rassicurazioni che si sta lavorando per poter consentire alle famiglie di rivolgersi ad un pediatra del distretto più vicino all'area in questione che prossimamente sarà promossa una iniziativa per ottenere una deroga alla norma nazionale. Portano avanti la battaglia 230 mamme, i sindaci di Scafa, Bateggio, Alanno, Caramanico, Cugno, Lilletto, Manoppello, San Valentino, San Teofemia, Manoppello, Serra Monacesca, Rocca Morice, Turri Valignani e Salle, la deputata Daniela Torto, il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle, il capogruppo di Fratelli d'Italia Guerino Testa, il capogruppo del Partito Democratico Silvio Paolucci e il consigliere regionale del PD Antonio Blasio. Sentiamo una delle mamme, il sindaco di Scafa Maurizio Giancola. Solo due pediatri per 13 comuni con tutti i bimbi da 0 a 14 anni che sono di un numero intorno ai 3000, credo che due pediatri siano un po' pochi anche per quanto riguarda il fatto che i nostri comuni sono distanti fra loro, sono comuni montani, quindi ci sono anche problematiche di raggiungimento del pediatra magari in pieno inverno con i bambini piccoli malati, quindi ci sono diverse problematiche che questa situazione ci sta creando. Si parla tanto di medicina territoriale, si parla tanto di valorizzazione delle comunità all'interno di Pescara, si parla tanto di servizi e poi si creano problemi di questa natura. Se vogliamo che le aree interne siano di nuovo popolate ma con i servizi a dovere non possiamo non aderire all'iniziativa, quindi da parte del Comune di Scafa ma anche di tutti i sindaci del distretto massimo appoggio.